Salve cari amici, tuttubi? Sono Francesco e bentornati nella soffetti di camera mio, benvenuti se la prima volta che venite a visitarla. Qui Francesco, qui Zeppo Perone, quest'oggi parliamo di WAC presenta Paperopoli numero 10, mitologia quotidiana, ovvero sia WAC numero 33. Siamo già arrivati al 33esimo numero di WAC, mamma mia quanto passa velocemente il tempo considerando che la testata è bimestrale, contenente alcune storie legate alla mitologia quotidiana. Che cosa si intende per mitologia quotidiana? Il fatto che i nostri protagonisti, nelle vicende di tutti i giorni, possono avere a che fare con elementi mitologici, animali fantastici o tesori mitologici di cui vanno alla ricerca. Sono questi i temi di due delle storie lunghe di questo albo, a cui segue ovviamente la parte, questa qui è la parte antologica dell'albo, mentre la parte cronologica continua la ristampa delle Walt Disney Comics and Stories, delle team pages di Karl Barks. Le prime storie contenute all'interno del labo sono tratte invece da Four Color Comics del 1950, ed era il Four Color Comics numero 263 se non ricordo male, esattamente. La prima storia lunga esula un pochettino dal tema della mitologia quotidiana se vogliamo, intitolata Paperino nel paese del totem, vede i nostri recarsi, Paperino e i nipotini recarsi nel nord dell'Europa, dell'America, per vendere determinati prodotti agli indiani, agli abitanti di questo paese, tra cui per un certo punto arriveranno proprio gli indiani, da lì il paese del totem. Che cosa succederà? Paperino deve vendere degli organi a vapore, i nipotini dei cosmetici, arriveranno a affrontarsi, confrontarsi con un paese di pelle rosse, di indiani, che non hanno la più pallida idea di che cosa sia un russetto, uno smalto, un lucidalabbra, un sapone. Creando quindi un vero e proprio scontro generazionale di cultura, che scade molto nel comico, nelle gag, nel no sense, se vogliamo, perché effettivamente ci sono tante cose che non tornano, però va benissimo così. Piuttosto divertente, che devo dire, è stata una storia che mi ha divertito abbastanza, proprio per questo contrasto generazionale, nonché alcune gag precedenti all'incontro con gli indiani, piuttosto ben riuscito. La storia successiva, invece, è Paperino e il segreto dell'unicorno, un'altra bella storia che ho proprio gradito, perché contiene tanti elementi, tanti elementi diversi. Già contiene lo scontro tra Paperino e Gastone, perché entrambi partiranno alla ricerca di un unicorno che si trova nell'Himalaya. Entrambi ingaggiati, o meglio, Paperino e Nipotini ingaggiati da Zio Paperone. Gastone avrà sentito di nascosto il fatto che Zio Paperone è alla ricerca di un unicorno. Un unicorno che sa che esiste, perché gli è stato certificato, qualcuno l'ha visto e quindi i nostri partono dalla sua ricerca. Il gusto per un posto lontano, un posto esotico, un posto totalmente diverso dalla quotidianità che vivono i nostri Papri, andando in questo paese dell'Himalaya, in realtà molto arrabbeggiante, però ci sta alla grande, con tutta una cultura, altre cose, quindi anche vedere come Karl Barks abbia elaborato una cultura totalmente diversa in questa cittadina. e successivamente la ricerca vera e propria di questo animale, il tentativo da parte dei nostri di catturarlo per poterlo portare a Paperopoli. Non manca nel finale, come in tante storie di Karl Barks e di Rodolfo Cimino, che di fatto, secondo me, è uno, sotto tanti punti di vista, è di fatto uno degli eredi di Karl Barks, almeno per quanto riguarda la scrittura, una morale di fondo, ma una morale che non è pesante, non è detta esplicitamente e quindi è un diktat morale che devi assolutamente seguire per essere una brava persona. È qualcosa che rimane di sfondo, è un esempio morale che ti rimane, secondo me, sotto pelle, sotto traccia, ma che non è detto esplicito. Per essere bravi bisogna fare i buoni. No, no, Karl Barks soprattutto non è neanche di suo, non è neanche così buonista di base, quindi figuriamoci se si mettesse a dire queste cose qui in faccia alle persone. Quindi una storia che ha tanti elementi e che, devo dire, è stata veramente bella. Leggerla per la prima volta, perché non avevo mai avuto modo e occasione di leggerla. E quindi questo WAC, secondo me, fa veramente bene il suo lavoro, quello di presentare alle nuove generazioni, a chi magari non ha mai avuto modo di leggerle, le storie di Karl Barks. Sarà un'omnia? Non sarà un'omnia? Lo scopriremo semplicemente quando la testata finirà. A me basta anche così, fondamentalmente, perché, ripeto, mi piacciono queste storie, ma sono storie che hanno un gusto retro abbastanza importante, che hanno questo, per quanto siano storie molto belle anche adesso, hanno un gusto piuttosto retro, quindi un'omnia con tutte le storie di Karl Barks, col senno di poi, sarebbe stata forse troppo pesante per i lettori di oggi. Per quanto questa evoluzione, questo mix di cose, non mi sta sfagiolando più di tanto, per tanti motivi che ho già detto in passato, però, questo albo qui, secondo me, si difende alla grande, già solamente per le due storie principali di Karl Barks. Mentre, invece, il ritorno a Xanadu di Don Rosa del 1991 è una storia che si prende proprio spunto da una vecchia storia di Karl Barks, è proprio un sequel diretto, con i nostri che ritornano in questa cittadina, che è Xanadu, una città sottoterra, dove c'è la luce del sole che entra, c'è tutto il posto che è molto ricco, c'è una vegetazione particolarmente rigogliosa, scorre l'acqua e tutto quanto, proprio un bel posto dove vivere, dove gli abitanti vivono in base alle leggi di natura, fondamentalmente, non esiste civiltà, non esiste una civiltà come la nostra, così sviluppata, una tecnologia così sviluppata, proprio un paese retro, retro, con tutti gli attrezzi classici. I nostri si ritorneranno lì. Già in passato c'erano finiti una volta, ed era successo tutto un casino, perché Zipo Perone aveva cercato di istituire il concetto di baratto, cosa che aveva creato un gran disordine. In questo caso, l'arrivo dei nostri creerà degli scompigli, per il semplice fatto che, rientrando in città, apriranno una valvola, chiuderanno una valvola, che impedirà all'acqua di abbandonare la città. Quindi, pian piano, la città comincerà a sommergersi sempre di più. La storia è molto avventurosa, Don Rosa riesce a creare proprio una storia di avventura, con anche tutto il gusto della scoperta, della ricerca di un tesoro, quello di Gengis Khan. Molto bella. Devo dire che è una storia che ci stava, e che mi ha fatto piacere leggere, anche in questo contesto qui, con degli articoli di approfondimento, di Luca Boschi, Alberto Beccattini, Lidia Canatella, che comunque, ti danno un quadro complessivo, e della storia, del contesto storico, che devo dire, in questo caso qui, ho trovato proprio di mio gusto, di mio gradimento, anche perché non vanno mai, mentre in passato, praticamente, ti svelavano, per me, tre quarti della storia, per dirti il loro punto di vista, prima che tu leggessi la storia, in questo caso qui, sono riusciti ad essere molto equilibrati, dando, sì, alcune anticipazioni, ma senza poi, svelarti tutta la storia, cosa che avevo particolarmente odiato, nella prima fase di Wack, perché, praticamente, leggevi la storia, sapevi già come finiva. Non proprio il massimo, per essere una prima lettura. Contiene poi una Team Pages, di Karl Barks, del 1950, del 1945, tratta da Walt Disney Comics and Stories, 52, niente di, niente da segnalare, in realtà, come Team Pages, non, una storia simpatica, con un topo, che crea dei casini, nella casa dei Paperino, e Paperino, che cercherà di, debellare la minaccia di un topo, che gli ha invaso casa. Un vero e proprio corto animato, di quelli che c'erano all'epoca, però, fatto su, a formato fumetto. Molto divertente, però, è un po' il problema delle Team Pages, secondo me, sono molto divertenti, funzionano, sotto quel punto di vista, ma, ma, e qui sta la pecca, della cosa, il problema, fondamentale, e, leggerne tante di fila, sarebbe veramente pesante. In questo caso qui, una, due, a numero, secondo me funziona alla grande. Discorso diverso, invece, per la storia di Lupetto, che segue, nell'albo, tratto dallo stesso, Walt Disney Comics and Stories, ma non scritto da Carl Barks, e la differenza è evidente. L'esordio di questo personaggio, il figlio di Zekele Lupo, un lupetto, un piccolo lupo, che non vuole cacciare, non vuole mangiare gli animali, perché gli vuole bene, è il loro amico, fondamentalmente, mangia verdure, proprio l'apotesi del veganismo, fondamentalmente, però, al di là di questo, da parte di un animale carnivoro, oltretutto, al di là di questo, è una storia, che vorrebbe fare la moralina, dell'amicizia, che bisogna aiutare gli amici, solo che lo fa in maniera, molto smielata, molto spiccata, e non lo sopporto, però, va bene così, era una storia, di un gusto dell'epoca, che, se le togliessero, per me, non sarebbe un problema, così da poter permettere, l'inserimento di altre storie, di Karl Barks, o di Don Rosa, o comunque, con i paperi, visto che, Zecchiele Lupo, e Lupetto, non c'entrano, c'entrano col mondo Disney, ma non c'entrano niente, con i paperi, chiude l'albo, invece, una storia breve, di Dan Sheeps, di quattro pagine, con, anche qui, una serie di gag, con Zebo Perone, in montagna, che affronta, un orso, con tutta una serie di gag, e un finale, totalmente delirante, e no sense, vi consiglio l'acquisto, di questo decimo numero, di Paperopoli, per me si, è un numero che, riesce a concentrare bene, il tema, a centrare abbastanza bene il tema, che è molto vago, ma funziona, riesce a centrare bene, anche la Team Pages, è molto molto carina, e sono 5 euro, che sinceramente, spenderei, piuttosto, rispenderei molto volentieri, se non avessi questo albo, chiaramente, se state già collezionando la testata, ce l'avete già, l'avete già letto, se non collezionate la testata, e volete provare, secondo me, questo numero qui, può valere la pena, per valutare, se vi può piacere, o meno, questo tipo di collana, perché mi sembra, che in questo caso qui, abbiamo veramente, tutte storie, molto molto valide, detto questo, noi ci vediamo, ad una prossima video, opinione del canale, ciao!